sull'acquisto in Italia perché la birra in lattina forse ha un aspetto che non piace insomma però viene messa in lattina perché in questo modo è più facilmente sfruttabile, non in traduce quindi è più semplice così e insomma poi assaggiate. Io ve ne do un pochettino ma in realtà è che ne potete assaggiare più di una, se vorreste violare la stessa birra mi date un bicchiere e lo sciacquo, non c'è problema.